Io ogni mattina leggendo i giornali mi rendo conto delle lacune del servizio sanitario che sono lacune davvero enormi. La grande soddisfazione comunque che noi abbiamo è stata, noi abbiamo assunto questa responsabilità a ottobre del 2020. Un mese dopo abbiamo avviato lo screening di massa nei palazzetti, il sistema, il metodo israeliano. Due mesi dopo è partita la vaccinazione di massa nei palazzetti e quel metodo che noi abbiamo introdotto per primi in Italia è stato poi esteso a tutte le altre regioni. Per mesi siamo stati la regione benchmark nel rapporto di efficienza tra vaccini che ci venivano consegnati e vaccini somministrati. Chi può immaginare, chi poteva immaginare che la nostra regione con tutte le carenze potesse somministrare 3 milioni e 600 mila vaccini, 1 milione e 2 per 3 dosi. Quindi abbiamo protetto la nostra popolazione, chi voleva vaccinarsi e chi non voleva vaccinarsi con gli anticorpi monoclonali. Poi abbiamo approvato il piano, il PNRR, siamo stati una delle prime regioni. Abbiamo fatto la riforma della sanità ad agosto, stiamo adesso predisponendo il piano sociosanitario. Naturalmente le questioni sono molto complicate perché la sanità e il bilancio della sanità risente di una criticità che non è uguale in altri paesi. L'Italia investe il 6,5% del prodotto interno lordo, la Germania per esempio ha due punti in più, la Francia ha un punto in più. Quindi noi investiamo molto poco in sanità, basti pensare per esempio che la carenza dei medici non proviene dalla nostra responsabilità. Perché noi abbiamo investito sulla formazione dei medici nel finanziamento delle borse di specializzazione. Con questa manovra di bilancio stanziamo 9 milioni di euro per acquistare tutta una serie di tecnologie per i medici di medicina generale, scanner per fare la radiografia, per fare l'ecografia, delle pocte portatili per fare l'analisi del sangue. Quindi noi stiamo massicciamente investendo. In realtà c'è da tener conto che purtroppo lo stato sociale così come noi l'abbiamo conosciuto si sta via via dimagrendo perché gli investimenti sulla sanità sono investimenti che stanno calando. E quindi ritengo che bisogna rimettere la sanità al centro perché la sanità è il presupposto di garantire la vita delle persone. Il sogno per il 2023 è quello di riuscire con le risorse che abbiamo a disposizione di fare delle economie, di investire molto di più sulla spesa sanitaria. Dicevo la carenza dei medici per esempio può essere in parte mitigata dall'impiego degli infermieri, sempre per fare una comparazione con l'estero. In Germania lavorano 13 infermieri ogni 1000 abitanti, in Italia 4, in Francia 7 infermieri. Per esempio alcuni medici potrebbero essere sgravati da prestazioni che possano essere eseguite dagli infermieri. Quindi è una politica che è mancata sulla sanità. Quindi non sono stati formati medici, non sono stati formati infermieri e c'è un tetto di spesa al personale. Dopo due anni di Covid se non ci siamo resi conto che la sanità rappresenta una priorità, questo è il tema.